Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 21 settembre. I temi della giornata in realtà sono non tantissimi. Il giornale oggi dice che abbiamo trovato un accordo elettorale tra PD e Forza Italia. Io su questi accordi elettorali ci credo soltanto quando poi vedo che vengono effettivamente realizzati con una legge. Per il momento è talmente noioso capire il latinismo e i tecnicismi di cose che poi magari vengono cancellate come all'ultimo fu l'accordo sul cos'era il tedesco, cos'era l'accordo ultimo, manco me lo ricordo più, che aspettiamo di vedere come si andrà alle elezioni. I due temi veramente che mi interessano della giornata e l'apertura di tutti i giornali sono come ha sintetizzato bene il manifesto la Catarogna, intendendo il gran caos che è avvenuto in Catalogna che ha indetto un referendum per la sua indipendenza, la sua autonomia, mettiamola così, ma il governo centrale di Madrid non ci sta. Il preme Rajoy dice che questo non è un referendum accettabile e fa qualcosa di più, di maggiore, di più forte e addirittura ieri fa arrestare 14 funzionari del governo catalano. È un dato che io per un attimo, anche se non puoi, oggi lo scrivi lì, ho capito sul giornale, non puoi considerare la Catalogna e la Lombardia. Non lo so perché, ma in realtà sono storie un po' diverse. Però il referendum in Lombardia e in Veneto ci sarà tra poco. Però io mi immagino che cosa potrebbe succedere in Italia, un paese democratico, se il governo centrale di Gentiloni, o mettete voi chi vi pare, arresta 14 funzionari o assessori lombardi o veneti o anche pugliesi o siciliani perché questi hanno non rubato, ma perché c'è qualche loro tentativo di fare un referendum, cioè una consultazione democratica. Questo non vuol dire che io sia un indipendentista, non voglio neanche entrare in questo merito. Però devo dire che effettivamente quello che sta avvenendo in Spagna è un grande problema. Un grande problema ovviamente per la Spagna, perché la Catalogna e Barcellona non sono esattamente lo Stato con tutto il rispetto di Andorra, ma sono 8 milioni di abitanti, il 19% del PIL, il paese mi sembra 3 milioni e mezzo di occupati. Insomma, sono uno dei motori fondamentali dell'economia e della cultura spagnola. E l'altro elemento che però mi fa sorridere, oggi forse Andrea Bonanni sulla Repubblica lo ha colto, è l'incredibile situazione di questa Europa, che è di una fragilità incredibile, proprio perché ogni istante la realtà ci allontana rispetto all'utopia che invece ci raccontano a Bruxelles. Un altro elemento che su questo mi farebbe riflettere, dovrebbe far riflettere, che è il Presidente della Commissione europea, cioè il grandissimo, spesso un po' sbevazzone, di Juncker, va bene? E questo signore viene da un paese che si chiama Lussemburgo, che non potrebbe neanche mettersi in confronto con una piccola città della Catalogna, se non per il fatto che grazie alle sue politiche fiscali, le stesse che Juncker condanna negli altri paesi, Francia, Italia e Germania, per le sue politiche fiscali ha creato il suo successo. Insomma, mi viene molto da ridere questa Europa incredibile, che da una parte, come fece con Barroso, dall'altra come continua a fare con Juncker, è basata su un europeoismo che si legge su stati nazionali, e dall'altra, prima sull'indipendentismo inglese, oggi sull'indipendentismo scozzese, oggi sull'indipendentismo catalano, si permette un presidente come Juncker di un nulla, che è il Lussemburgo, vuol tenere insieme questa costruzione europea fatta di nazioni. Insomma, è uno dei paradossi di questa Europa che funziona in maniera singhiozzante. L'altro grande tema, ci sono due grandi temi di cronaca, uno l'abbiamo portato ieri sera a Matrix, la vendetta trasversale di un padre che poi si suicida, e oggi su tutti i giornali, addirittura, purtroppo è venuto questa mattina uccidendo una bambina di 15 anni che andava a scuola solo per le liti che il padre aveva nei confronti della madre, una storia incredibile, ma ne abbiamo parlato diffusamente ieri. L'altra notizia oggi molto presente sul giornale è l'operatrice umanitaria violentata da un profugo. Lì è una di quelle cose che avvengono. Guardate, la cronaca ci ha raccontato nelle ultime settimane di italiani che violentano, di carabinieri che hanno rapporti sessuali e forse, secondo l'accusa, violentano, extracomunitari, bengalesi, congolesi. Non si può, io su questo sono abbastanza deciso, non si può generalizzare, si può dire che la percentuale di violenze che arrivano dagli strani è superiore a quella che arrivano da italiani. Questo non toglie che le violenze, indipendentemente dal colore, siano insopportabili. Però bisogna trovare. C'è una differenza tra un italiano che usa, una differenza non nella gravità del reato, ma nel comportamento che lo Stato può avere rispetto al violento. Se un italiano violenta si prende, lo si sbatte in galera. Se un italiano violenta lo si trova, numero, indirizzo, telefono. Se una persona che viene in Italia per chiedere rifugio politico per motivi umanitari, violenta, come il caso dell'operatrice, per me non si fa un processo, per me non si fa un ricorso, per me non si fanno gli avvocati di ufficio. Se qualcuno che vuole entrare nel nostro paese e richiede lo status di rifugiato, si permette non addirittura di fare una violenza sessuale drammatica come quella di ieri sera, ma anche per quanto mi riguarda di dare uno schiaffetto a qualcuno, a differenza di un italiano, a differenza di un italiano che può essere bianco, colorato, quello che volete voi, a differenza di un italiano lo si rimette su un aereo, quant'è il biglietto di economy per la Sierra Leone, e lo si sbatte in Sierra Leone da cui arriva, senza processi, senza ricorsi, e lo si segnala alle autorità giudiziali della Sierra Leone. È un vostro problema. Questo signore non sta più un secondo in Italia. Il processo non si fa in Italia. Non si tutelano le vittime, è vero. Non si tutelano i diritti della difesa, è vero. Ma non è possibile pensare che ci riempiamo carceri, tribunali, giurisdizioni di criminali che invece dovrebbero starsi nel loro paese in un secondo. Per la nostra collettività sarebbe molto meglio che queste persone venissero mandate via, a casa, come dice il nostro amico De Luca, quello che si fa i contromani nella sua strada in cui è risente. Fuori, fuori, ma veramente fuori, basta. Non è che ne dobbiamo discutere. Bene, questa sera ci sarà Matrix, eccezionalmente giovedì Matrix, quindi se proprio non avete sonno, anzi vi consiglio di guardarvelo, parleremo di privilegi e anche di De Luca, ma privilegi in senso un po' diverso rispetto a quello a cui voi siete abitavati, privilegi che non sono soltanto dei politici, ma spesso possono anche essere di clienti dei politici, e poi parleremo di immigrazione, con dei documenti eccezionali che vedrete dimostrano come le ONG e gli scafisti avevano rapporti, visivamente lo vedrete, avevano rapporti più che incestuosi. Oggi su questo ne parla il Fatto Quotidiano, non sul nostro scoop, ma il Fatto Quotidiano, dice che anche l'organizzazione Save the Children è stata indagata. Appuntamento a questa sera, se avete voglia, su Matrix, e io vi do appuntamento domani, come sempre, con la zuppa di porro. Ciao! Ciao!